Coff Commercio dice che per ritornare ai consumi pre-crisi ci vorranno almeno 11 anni. Lei come commenta questa situazione? Ma che se lo dicono loro ci crediamo, nel senso che loro sono i diretti interessati, sono quelli che vedono realmente come sta andando il mercato, come vanno i consumi. Perché io credo di più a un commerciante che tutti i giorni apre la propria sala cinesca e il proprio negozio per cercare di vendere il più possibile ai professori universitari che magari si inventano i dati per far andare bene o male l'economia. Quindi è un dato che ci fa meditare, è un dato che ci fa pensare che i famosi 80 euro di Renzi forse non servono a niente ed è quello che dicevamo. È un dato che ci fa anche pensare che questo euro e questa Europa stanno massacrando sempre di più i consumi, stanno massacrando sempre di più coloro che investono del proprio per aprire un'attività commerciale e sicuramente tutti coloro che dovrebbero essere i clienti, quindi i cittadini normali, oppressi dalle tasse, perché lo stiamo dicendo a Renzi e l'abbiamo detto anche in questi giorni, troppe tasse, oppressi dall'euro e lo stiamo dicendo un euro infame e oppressi anche un po' da un pessimismo sicuramente che c'è in tutti noi in questo momento perché non vediamo una via d'uscita e quindi molto spesso piuttosto che comprare qualcosa in più si cerca di risparmiare un euro sperando che il futuro sia diverso.